Allora, non è in prodotto vetrina? Ti ricordi cosa stiamo per fare? Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'appuntamento quello di tutti i mercoledì, ovvero della vetrina in anteprima perché sono davvero golosissime le novità che vi aspettano a partire da domani. Ad esempio Luca, una specialità sfiziosa che vuoi annunciare qual è? Sarà che domani al banco venderanno delle deliziose pere e gorgonzola da gustariglia. Pere e gorgonzola avete sentito e non solo, ci saranno ad esempio dei ravioli con specchia e radicchio e tornano i fiorellini con polipe e patate senza latticini e poi Luca diciamolo che cosa sarà domenica? Domenica sarà la festa delle donne, ricordatevelo. Quindi che cosa proponi per la festa delle donne? Io proponerei i fiorelli con elbette e curcuma. Deliziosi da fare magari solo con un po' di panna e anche il cuoricino, quello con toma, noci e un filo di miele da friggere e servire anche come dolcino. Quindi io vi rimando tutti a domani, ci troverete in Corsa Brunelleschi. Ma Luca, ma lo sai che ti stanno facendo tutti un sacco di complimenti? Sì, vi ringrazio tantissimo per il suo supporto e grazie. Noi vi ringraziamo, vi salutiamo e vi auguriamo ovviamente una buona serata.